Agente, stiamo intercettando delle comunicazioni del battaglione. Pare che abbiano ricevuto lo stesso messaggio dell'immunologo. Scandaglia il consolato e trovalo. Ti faremo sapere se individuiamo dei nascondigli. Scandaglia il consolato e trovalo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, le meci in arrivo verso la tua posizione. Grazie a tutti. 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 Sistema valutato. Protocolli di sicurezza disattivati. Porte di sicurezza aperte. Una zette della squadra ha bisogno di assistenza. Grazie a tutti. 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 Vitali, va tutto bene. Siamo qui per aiutarti. Puoi aprire la porta? Ok. Ok, arrivo. Vitali, cosa succede? Era una carica da irruzione. Presto, agente. Accesso a sistema di sicurezza. Accesso ottenuto. Attenzione. Intercettazione, trasmissione. Boss, qui Hornet. Ho Cernenco e ho scaricato i suoi appunti dal server prima dell'accesso della JTF. Siamo pronti all'estrazione. Bene. E i nostri amici? Sono vicini. Permesso di ingaggiare? Concesso. Vediamo di che pasta è fatta la seconda ondata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, tecnologia Shade rilevata, sincronizzazione con tecnologia Shade Accesso al database, connessione in corso Agente, sto ricevendo i file dalla Shade di quell'agente Ci vorranno giorni per le analisi, ma c'è qualcosa di grosso e inquietante È un bene avere questi dati Non troppo bene, ci hanno portato via Cernenco da sotto il naso Beh, ho i suoi appunti, non mi serve, non ancora almeno Oh, abbiamo così tanti dati preziosi qui